bella a tutti regà qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale se siete nuovi nel canale raga purtroppo in questo periodo non mi sto portando glitch ma non si sa mai nella vita visto che sto riprendendo i ritmi normali di una vita normale lavorativa quindi non ci incischiamo e parliamo di cose serie sappiamo quasi per certo il giorno dell'uscita del nuovo DLC di GTA V allora chi mi segue ormai da un po' sa che mi sono preso una pausa ma raga su queste cose importanti sull'uscita di DLC di GTA VI e di cose abbastanza serie del gioco sono sempre presente quindi raga dicembre, 12 dicembre, tra l'altro il compleanno anche di mio padre quindi spero sia raga un gran DLC fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate raga da GTA V e da questo DLC che spero sia uno degli ultimi perché visto che sappiamo che a dicembre, i primi di dicembre uscirà il trailer di GTA VI raga io penso che siamo molto vicini all'uscita del gioco quindi sarà uno degli ultimi DLC secondo me ci sarà ancora questo di dicembre del 2023 e forse ce ne saranno altri due nel 2024 e poi io direi basta con GTA V possiamo prendere la PS4 e buttarla giù possiamo prendere Xbox One e buttarla giù e iniziare a giocare con le nuove console ragazzi con una qualità e con una giocabilità che ancora noi forse non conosciamo quindi ragazzi io vi saluto spero che questo video vi è piaciuto se non vi è piaciuto amen raga l'importante è che sappiate che il 12 uscirà il DLC di GTA V ovviamente quello lo giocherò in live raga bella raga alla prossima e sbadabam iscriviti al canale